A partire proprio da questo che può essere un laboratorio, una città che era stata consegnata malauguratamente come avvenuto a livello nazionale alla sinistra e con uno sforzo condiviso e congiunto della classe dirigente di centrodestra è tornato ad essere amministrato dalla buona amministrazione di centrodestra. Arezzo come un laboratorio della buona politica, è questo il messaggio lanciato dall'onorevole azzurra Nunzia de Girolamo in città ospite del gruppo consigliare di Forza Italia. Forza Italia in Toscana si muove da tempo e probabilmente non è un caso che i risultati stiano arrivando e lo fa anche grazie alla disponibilità di tanti nostri autorevoli parlamentari che si prestano a far sentire la voce sul territorio ed è una filiera che sta funzionando. I temi portati sul tavolo sono quelli legati alla sicurezza e alla legittima difesa. Ma noi abbiamo diverse proposte innanzitutto quella di dare, visto che siamo in un comune, tra l'altro amministrato da noi, di dare molta più forza ai sindaci, alla polizia locale e quindi anche molti più poteri decisionali per garantire la sicurezza, più telecamere, ad esempio penso alle telecamere negli asili, nelle strutture per anziani, negli ospedali dove tanta violenza viene riservata ai nostri bambini e ai nostri anziani senza ovviamente ledere la privacy anche per le strade. Chiaramente più potere alla marina, quindi cercando di aumentare i rispingimenti, tutte le proposte che noi abbiamo fatto sull'immigrazione che voi conoscete e soprattutto un tema che è tanto caro adesso all'Italia perché la gente ha il diritto a non avere paura, far sì che questa legge sulla legittima difesa voluta da noi e dai nostri colleghi del centro-destra, quindi Lega e Fratelli d'Italia, possa diventare una realtà. E chi è in casa si possa difendere quando entra qualcuno o nelle attività commerciali come chiede Forza Italia o nelle dimore private chi vive serenamente la propria vita non possa sentirsi leso qualora entri qualcuno per commettere un reato e si possa difendere senza dover passare il resto della vita, non solo con un problema psicologico per aver fatto male ad un altro per difendersi ma anche privato della propria libertà personale.